La luce del tramonto è la prima opera letteraria dell'amico Antonio Maria Calafiore per Giuseppe Maimone, editore. Ti chiedo subito Antonio, perché la luce del tramonto? La luce del tramonto per l'intreccio del romanzo è quella luce molto particolare che ogni tramonto riesce a sviluppare e che tu non riesci a vedere perché a volte è così veloce che viene subito ingoiata dalla oscurità. Però questa stessa luce, se riusciamo a girarci un attimo indietro, la troviamo a sorgere in un altro mondo. Quindi è una luce continua e perpetua, ma è, ripeto, così veloce che tu non riesci a vedere. In questo caso la luce del tramonto è la luce o il tramonto di un personaggio che in questa luce cerca la sua speranza. Una storia contorza, una storia che però fa riferimento anche agli anni bui che Gela ha vissuto. Ci riferiamo alla fine degli anni Ottanta, inizio anni Novanta. E tu allora, te le Gela Color, hai seguito questi particolari momenti? Sì, li ho seguiti e molti li ricordo ancora, con molto rammarico e con molto... Però in questo racconto qua più che Gela, ho descritto una Sicilia, una Sicilia intesa come paese, un grande paese, una Sicilia che vive la sua quotidianità nelle tradizioni, nella cultura. E in queste tradizioni purtroppo esiste anche la mafia. E allora ho creato questo personaggio che un giorno attraverso uno specchio comincia a vedere i suoi fantasmi. Fantasmi che in un certo modo gli chiedono anche conto e ragione di quello che ha fatto durante la sua vita. E di questi fantasmi lui più che averne paura ne ha quasi vergogna. E quindi la luce che dicevamo prima cerca un riscatto, in un modo descritto molto particolareggiato, perché attraverso questo specchio dove il vapore acqueo che impregna tutto lo specchio comincia a fargli vedere figure, immagini, percorsi molto particolari, ripeto, di cui ne ha vergogna e di cui cerca o trova il suo riscatto. E dopo la luce del tramonto cos'è? Vedremo un'alba di speranza? Questo è l'augurio? Sì, perché i fantasmi appunto chiedono ragione. Lui lo trova e dà soprattutto questa speranza. Perché il gelese, ma non soltanto il gelese, dovrebbe acquistare la luce del tramonto di Antonio Garafiore? Perché credo che la storia sia interessante. È interessante come tutte quelle storie che parlano di quotidianità.